ciao amici e amiche come state spero che state tutti bene io sono qui per augurarvi una dolce notte e voi mettetevi le cuffie rilassatevi regolate il volume a vostro piacimento e potete ascoltare questa meditazione ASMR ogni volta che volete e ne avete bisogno vi piace l'atmosfera questa sera? è tutta per voi per voi per voi per voi avete lavorato oggi? siete stanchi oppure vi siete riposati? siete andati al mare? domani dovete andare a lavorare è lunedì e dovete faticare vi dovete svegliare presto 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 alla prossima questa calda atmosfera è tutta per te per te per te voglio metterti a dormire e a curarti un sonno molto ristoratore e riuscante perchè ci tengo a te a te se sei donna vatti a stroccare vatti a lavare il viso o sei uomo lavati lo stesso l'acqua ha un effetto super super rilassante e 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 ti piace la mia voce? o preferisci che sto zitta oppure preferisci che ti faccio un po' di rumori rilassanti chiudi gli occhi mettere col film e lasci andare tutti i pensieri tutti i pensieri della giornata quelli brutti i pensieri anche del lavoro i problemi tutti i problemi non pensare a niente o pensa a qualcosa di bello pensa ad un fiore che sboccia vicino a te che nettamente si apre alla luce del sole e aspetta solo che si fa giorno è così bello così colorato questo fiore questo è un fiore che che i suoi petali sono completamente illuminati dal sole è di un colore rosa rosa intenso e giallo tutto colorato con sfumatore blu e viola e viola è un bellissimo fiore ha degli enormi petali e tu lo vedi sbocciare sbocciare e questo ti piace molto ti piace molto la natura è l'essere immersa nel verde questo è un fiore che si sta aprendo a te davanti a te con tutta la sua meraviglia eccolo è tutto aperto è meraviglioso questa è una meraviglia questa è una meraviglia della natura immagina di stare in mezzo a un prato con tutti questi bellissimi fiori che si stanno aprendo a rocce del sole molto lentamente molto lentamente e tu li osservi estasiato e felice immagina che che tu corri in mezzo a questo prato e ti ci tuffi ti ci stragli felice come non mai e spensierato spensierata in mezzo a tutti questi colori ti senti veramente bene senza pensier senza pensier senza pensier adesso piano piano riapri gli occhi e ritorna al tuo momento presente devi andare a fare la natura a fare la natura e a fare dolci sole pettina di capelli sulle altra e st st e st Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti faccio una carezza sul tuo viso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso ti auguro la buona notte, good night, buonas noces, buonui, buonui, buonui. Goodbye. Lasciami un like. Io sto sempre qua per rilassarti se vuoi. Ti mando un grandissimo bacino e ci vediamo a presto. Grazie a tutti.